COLPO DELLA TIGRE COLPO DELL'LORCO POND CANON Scusate, lo so che non si fa Pronto? Scusate, pronto? Guarda, ti richiamo tra 5 minuti Scusami, ciao 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 Scusate, non bisogna mai tenerlo il telefono acceso in sala Si può sapere perché non ci siamo fermati! Avete capito, no? Chi sono? Ora la via è libera, possiamo andare! Sono Zoro Questo è il copione di One Piece Sono Patrizio Prata Nella realtà, ciao e vi volevo fare un saluto Io sopravviverò a questa dura prova E raggiungerò il traguardo della mia vita ad ogni costo Adesso siamo alle prese Con uno dei miei personaggi preferiti Che è appunto Zoro Ma in questo stabilimento, proprio in questo Dove stiamo lavorando In questo momento doppiamo anche altre serie che ho fatto nel corso degli anni Tra le quali Cheroro Evviva! Questo è un vero e proprio paradiso Per me adesso mi tuffo Così me lo bevo tutta! Io e il mio squadrone Siamo pronti per invadere E Pecopon Chero, Chero, Chero Terrestri No, anzi Pecoponiani Avete i giorni contati Sarebbe bello provare a doppiare Zoro Con la voce di Cheroro E fare che Zoro Sono felice anch'io Ma se muori qui non sarà servito a niente E allora Colpo della tigre Colpo della tigre Colpo dell'orco Pound, cannon Asop, Asop Ma che cosa dici? Sei impazzito? Non c'è modo di uscire da qui Questo? Era che Zoro Io voglio doppiare che Zoro! Non puoi decidere per me! Vi ringrazio molto Vi auguro un sacco di cose belle Spero di Aver modo di vedervi Faccia a faccia il prima possibile Intanto vi mando un abbraccio E vi auguro un sacco di cose belle Buone cose da Patrizio Prata Pronto? Senti scusami è per prima Volevo soltanto dirti che Sono troppo ambition Senti scusami Senti scusami Senti scusami Senti scusami